Francesco, che ruvini! A piano forte, Leonardo, volo, spettinato! No, Leonardo, spettinato, volo, era più carino. Spettinato, Leonardo, volo, spettinato, volo, Leonardo. Ma chi c'era nell'acqua? Era cintone? Che cos'era? La grandissima voce di Nathan Rush! Alla chitarra! Elegantissima, sempre impeccabile! Da Broccolino, da dove vienete? Scarface! Luca, gialli! Gialli con la Y, la domenica! Al mixer, Francesco Andi! Un ringraziamento a tutti i tecnici e un grazie particolare all'amministrazione e prologo di Villanova che ci ha invitato qui e ci ha fatto rincontrare. Quindi un applauso, grazie di cuore per l'invito, siamo stati benissimo. Stefano De Donato, Silvone Avencini, di Notte su Cuba. Grazie! Grazie! Grazie.